C'è anche chi svolge il ruolo in maniera assolutamente onesta e responsabile, questa cosa ce la dobbiamo dire per portare da esempio questa condizione. Io credo che il sistema tra virgolette americano che pone alcune condizioni, quella della responsabilità ma soprattutto quella della trasparenza, il fatto che nella pubblica amministrazione e nella politica qualsiasi cittadino possa vedere qualsiasi tipo di movimento anche patrimoniale del politico di chi ha un incarico pubblico sia una cosa alla quale consegue una certa responsabilità e sicuramente una limitatezza del reato. Detto questo penso altresì e chiudo che in ogni caso i tempi rispetto alla prescrizione devono garantire un processo equo perlomeno anche per l'emotività familiare per cui che uno non stia sotto processo vent'anni. Ma se dopo sei anni di processo, cinque anni di processo uno viene condannato deve assolutamente finire in carcere.